...e anche con la finale della seconda divisione. 5 da... ...annuncio a presso il via il numero 58, Santina, Soghiazzacomo, il numero 43, Marco Lodelli. Il numero 26, Sannella, Schiele. Il numero 717, Cacco Terminato, e il numero 29, Polizia, Lodelli. Musica Musica Quello con l'alco e tu vuoi curarli il secondo di penalità? Musica Si'ha cuccato buttando giù i virilli. Musica Musica Sì, dai, più o meno ci vedo E se esco ninja, puoi prendere la coppia del terzo posto? No, no, perché se no, venisco anche la prossima volta No, no, mai te no Sì, dai, più o meno ci vedo No, ok, ci vediamo Sì, dai, più o meno ci vediamo Sì, dai, più o meno ci vediamo Sì, dai, più o meno ci vediamo Olè! Mia mamma, olè! Chi? Non è neanche esagerato? Sì, dai, più o meno ci vediamo Sì, dai, più o meno ci vediamo